Se e quando il Vaticano è attaccato dall'Isis, che come tutti conoscono è l'ultimo trofeo dell'Isis, posso promettere che il Papa avrebbe solo pensato e ormai che Donald Trump sia stato Presidente. Una persona che pensa soltanto in fare muri sia dove sia e non fare ponti non è cristiano. I am a Christian, I'm proud of it. Ok, for a religious leader to question a person's faith is disgraceful. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.